Aveva ascoltato quelle parole assorto e concentrato in uno dei momenti più toccanti della cristianità, la Via Crucis al Colosseo, appuntamento ormai tradizionale del Venerdì Santo, per la quale Papa Francesco aveva chiesto a Giancarlo Bregantini di scrivergli le meditazioni. Si conoscono da tempo il Pontefice e l'Arcivescovo di Campobasso, che per Bergoglio ha scritto anche una post-fazione quando era la guida della Diocesi di Buenos Aires. Si conoscono da tempo il Pontefice e l'Arcivescovo di Campobasso, che per Bergoglio ha scritto una post-fazione quando il Cardinale era la guida della Diocesi di Buenos Aires. Oggi il Pontefice ha scritto a Bregantini per ringraziarlo di quelle parole così dense di significato, con il lavoro e i problemi degli ultimi al centro di quelle meditazioni che Francesco ha apprezzato. Voglio ringraziarti, ha messo nero su bianco il Papa in una lettera arrivata in Via Mazzini, perché mi hai fatto tanto bene. Voglio ringraziarti, ha aggiunto Francesco, perché quelle parole hanno fatto bene a tanta gente. Un rapporto che va consolidandosi, quello tra il Pontefice e l'Arcivescovo, soprattutto per via dell'incarico che Bregantini ricopre alla CEI come presidente della Commissione per le Politiche Sociali e il Lavoro, due temi sui quali Bergoglio ha impostato il suo pontificato. Un legame confermato dall'arrivo del Papa Argentino il 5 luglio a Campobasso e Isernia. A questo proposito, negli uffici della Curia continua il lavoro di preparazione della visita di Francesco. Il consiglio pastorale allargato anche alle associazioni e ai cittadini è stato in riunione proprio ieri e ora si dovranno valutare le proposte scaturite nel corso dell'incontro, mentre le due città e tutta la regione si preparano. A vent'anni dall'abbraccio con il santo Giovanni Paolo II ad un nuovo storico evento.